La ricorrenza del 4 novembre, una data piena di significati, innanzitutto l'unità d'Italia, l'unità della nazione, poi le forze armate, per ricordare anche tutti coloro che prestano servizio nelle nostre forze armate, ma soprattutto è la celebrazione della fine della prima guerra mondiale. Normalmente si dice della vittoria nella prima guerra mondiale, io non mi sento di definire vittoria con gioia, nel senso che sì, è la fine della prima guerra mondiale, fu la vittoria in quel periodo per l'Italia rispetto all'Austria e quindi la conquista dei territori, però fu un periodo che portò, adesso vi dico dei numeri, a 1.200.000 morti italiani, 1.200.000 morti, 650.000 morti militari, 570.000 circa tra i civili, un disastro nazionale, nel senso che la popolazione dell'Italia era 37 milioni di abitanti, 1.200.000 nazionale, lasciarono la loro vita per difendere la nazione, per difendere la patria, per difendere il bene comune. Quest'anno però, e dobbiamo anche questo rivolgere un particolare ricordo, è stato dedicato al centenario del milite gnoto, perché nel 1921 fu istituita questa data, intitolata al milite gnoto. Perché si rese necessario questo passaggio? Perché l'evoluzione delle armi portò a costruire armi sempre più potenti, sempre più distruttive. C'erano proiettili di cannoni che pesavano più di qualche centinaio di chili e questo cosa comportava? Comportava a distruggere qualunque cosa dove arrivavano, distruggevano interi edifici e distruggendo gli edifici distruggevano tutti coloro che erano all'interno, le fortificazioni venivano distrutte da questi mortai, da questi cannoni. E purtroppo tanti soldati finirono all'interno di questi bombardamenti e di questi soldati non trovarono che pochi emise dei resti. Allora, in quel periodo, siccome erano decine e decine di migliaia i soldati dispersi, pensarono di individuare un dei resti che non si sapeva di chi fossero e mesero 11 bare nella chiesa di Aquileia, una di fronte all'altra. Pensa, e chi chiamarono per scegliere tra queste 11 bare con dei resti di soldati italiani senza nome? La mamma scelsero per decidere chi di queste bare doveva essere presa come simbolo del milito ignoto, la mamma, una signora che si chiamava Maria, mamma di Antonio Bergamas. Chi era questo ragazzo? Mi piace raccontarla, questo piccolo aneddoto, del quale non ero a conoscenza pienamente, ma che invece questo centenario mi ha portato approfondire e vorrei condividere con voi questo pensiero. Antonio Bergamas è un ragazzo nato nell'Istria, nella Dalmazia, quindi era italiano di cultura, di origini, eccetera, però per le divisioni politiche sotto il dominio austriaco. Questo fu chiamato a prestare servizio nell'esercito austriaco e doveva partire andare in Galizia o in Russia contro altri eserciti. Bene, lui, siccome sentiva italiano, scappò dall'esercito austriaco e si fece ruolare nell'esercito italiano. Però purtroppo nell'esercito italiano, con grande spirito e grande coraggio, Antonio Bergamas fu coinvolto in un combattimento e il suo corpo non fu più ritrovato. Bene, la sua mamma fu messa davanti a 11 bare in questo duomo di Aquileia e a un certo punto alla seconda bara si inginocchiò e mise le mani su questa bara mettendosi a piangere. Lì sicuramente non c'erano i resti del suo figlio, però per lei fu talmente forte l'emozione che individuò in quella bara e in quei resti anche la memoria del suo figlio. Bene, tutto questo portò poi questa bara, fu messa su un treno e per tre lunghi giorni fece un percorso fino a Roma dove in ogni stazione era un tributo di popolo. Perché immaginatevi, un milione e duecenti comina morti significa che in ogni paese dell'Italia, in ogni piccolo centro, in ogni frazione c'era qualcuno che era caduto in questa guerra. E quindi era molto sentita la corattoria, era molto sentita. Fu milioni di persone lungo il percorso a tributare veramente il riconoscimento a questa salma e poi questa salma fu messa e tumulata all'interno dell'altale della patria dove ancora oggi si testimonia con cerimonie particolari il ricordo del Milite Ignoto. Quello che però ci deve passare l'esempio del Milite Ignoto è lo spirito di servizio di tutti questi giovani, di tutti questi ragazzi che hanno donato la loro vita per la patria. Ma l'hanno fatto perché fondamentalmente c'erano degli ideali ma soprattutto c'era un servizio al bene comune. Questo è quello che ha guidato tutte queste persone arrivando fino al massimo sacrificio, purtroppo la perdita della loro vita. Oggi carissimi, noi invece viviamo in una società dove c'è la democrazia, c'è il benessere, però l'ultimo anno e mezzo siamo stati provati tutti, provati personalmente, toccati da una pandemia terribile che ha causato un cambiamento nelle nostre vite. Beh innanzitutto ha creato una sofferenza grandissima. Ci sono tante persone che sono state male, tantissime persone sono morte e qui c'è una piccola similitudine con il Milite Ignoto. Queste persone se vi ricordate nei giorni bui della pandemia sono morte negli ospedali da soli, messi nelle casse, portate al cimitero senza il conforto loro e dei loro cari. Terribile. Direi che possiamo veramente paragonare questo passaggio a quello del Milite Ignoto. Ah però tutta questa sofferenza, devo dirvi, ma l'ho visto anche nel nostro piccolo comune, nella nostra collettività, ha generato fenomeni bellissimi, di solidarietà. Una solidarietà che io in tanti anni da sindaco non avevo mai visto, mai visto. Una vicinanza tra le persone. E io vi dico che su questo, da questo noi dobbiamo ripartire, da questa unione e solidarietà. Vedo ancora oggi che ci sono persone, insomma c'è un po' di contrapposizione, i sì, i no, e qui e là. No, io dico che dobbiamo essere comunque sempre uniti, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. E dobbiamo essere uniti su cosa? Su un messaggio importantissimo. Quello che ci ha dato Antonio Bergamas e tutti i caduti nella guerra. Quello del bene comune. Se mi permettete, mi prendo ancora due minuti, ma per leggervi, perché è toccante, la lettera che Antonio Bergamas, qualche giorno prima di morire e sparire, mandò la sua mamma. Ve la leggo con calma e vi chiederei di ascoltarla con attenzione, perché questo è un ragazzo di 18 anni, come potrebbe essere un qualunque dei nostri figli o ragazzi del nostro paese. Scrive, domani partirò per chissà dove, quasi certo, per andare alla morte. Quando tu riceverai questa mia, io non ci sarò più. Forse tu non comprenderai questo. Non potrai capire come, non essendo io costretto, sia andato a morire sui campi di battaglia. Perdonami dell'immenso dolore che io ti reco e di quello che io reco al padre mio e alla mia sorella, ma credilo, mi riesce le mille volte più dolce in morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro, per la patria mia naturale. Invece del morire laggiù, nei campi ghiacciati della Galizia e di quelli sassosi della Serbia, per una patria che non era la mia e che io odiavo. Addio mia mamma, addio mia mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio coi vostri nomi amatissime sulle labbra, davanti al nostro carso selvaggio. Questo era Antonio Bergamas. Questo è l'esempio che si hanno dato tutti loro. Un esempio di sacrificio supremo anche con la vita per il bene comune. Questi hanno deciso questo. E allora io dico solo questo. Io vi chiedo solo per fare questo piccolo passaggio. Le loro erano le armi. Le nostre armi, in questo momento di guerra, dove la nostra guerra è la pandemia, è tenere lontano questo virus, noi anche abbiamo delle armi. E queste sono l'attenzione. Cerchiamo di difenderci e restare tutelati da questo virus. Lo sono i vaccini. Facciamo la nostra parte. Ognuno per quello che ci è concesso di fare. Ma facciamola. L'hanno fatto prima queste persone. L'hanno fatto con tutto loro stessi. Oggi tocca a noi. È una piccola chiamata alle armi. Ma credetemi, se vogliamo guardare al futuro di nuovo di normalità, di nuovo per quello che ci piaceva prima, dobbiamo arruolarci e dobbiamo fare come loro. Fare di tutto, tutto quello che è possibile, aiutare la medicina, aiutarci a uscire da questo periodo di guerra. Grazie a tutti. Buon 4 novembre. Viva l'Italia e viva Gaglianico!